carissimi fratelli e sorelle gioia e pace la bondanza a tutti voi col salmista vogliamo chiedere al signore signore chi abiterà sulla tua santa montagna la montagna il simbolo del cielo elevato quindi abitare sulla montagna abitare con dio chi abiterà con te ecco la risposta colui che cammina senza colpa pratica la giustizia e dice la verità che ha nel cuore non sparge calugne con la sua lingua non fa dar dal suo prossimo e non lancia insulti al suo vicino ai suoi occhi e spreggevole il malvagio ma onora chi teme il signore non presta il suo denaro a usura e non accetta doni contro l'innocente colui che agisce in questo modo resterà saldo per sempre manda il tuo spirito il signore e tutto sarà rinnovato e verrà ricreata la faccia della terra manda il tuo spirito il signore rigenera l'uomo dal profondo della sua anima a questo tu stai chiamando l'umanità intera a questo tu stai chiamando la chiesa e i nostri giorni a un rinnovamento totale di tutta l'appartenenza a te per vivere in comunione con te lasciandosi plasmare dalla tua parola per essere indotto e conforme alla tua santa volontà tutto questo noi ti chiediamo signore per intercessione della tua santa madre a te gloria onore e potenza per tutti i secoli dei secoli amen ecco fratelli la liturgia di oggi ci mette davanti un brano molto potente dell'apostolo san giacomo il quale è rimasto famoso nella storia della chiesa perché era veramente molto legato alla legge ma non alla legge esteriore alla verità alla vita integra alla vita totalmente dedicata a dio dice infatti lo sapete fratelli miei carissimi ognuno sia pronto ad ascoltare lento a parlare è lento all'ira perché questo perché il peccato ha corrotto l'intimo dell'uomo ora l'uomo è fatto come si spiega san paolo la lettera tessalonicesi di spirito di anima e di corpo è un tutt'uno per cui le azioni fisiche fisiologiche si riflettono sullo spirito e le azioni spirituali si riflettono sulle attività spirituali e viceversa ecco allora corrompendo l'intimo dell'uomo si rompe la persona perché i sensi sono corrotti perché corrotto lo spirito che ti fa gustare ciò che è disordinato ed è perciò c'è corruzione all'interno della persona per questo è necessario per una vita sana essere rigenerati nello spirito manda il tuo spirito signore tutto sarà ricreato e rinnoverai la faccia della terra ricordate sempre quella scena del libro della genesi quando dio crea l'uomo alita in lui la sua vita in ebraico alito rua dio ispira partecipa all'uomo la sua natura come ci ricorda anche l'apostolo pietro nella sua seconda lettera quando dice che per mezzo della parola dio partecipata all'uomo i suoi beni indicibili per renderlo partecipe della sua natura questa è la visione che dobbiamo portare nel cuore l'uomo e ma è simile a dio è nato da dio creato da dio facciamo l'uomo non come facciamo la pietra e facciamola frutta l'erba no facciamo la nostra immagine e somiglianza partecipiamo all'uomo qualcosa che il resto del creato non ha tu come persona umana hai dentro di te un'anima spirituale una dimensione spirituale e le immagini di dio hai la presenza di di ai lo spirito di dio hai la natura di dio tu partecipa alla sua natura ecco le parole che ci ricorda allora l'apostolo giacomo quando ci dice appunto siate lenti siate pronti ad ascoltare lento a parlare lento all'ira infatti aggiunge l'apostolo qui l'ira dell'uomo non compie ciò che è giusto davanti a dio perché lì viene dai sensi viene dalla passione non dallo spirito non dallo spirito sano vedete allora come la parola di dio ci mette davanti a questa necessità di immergere la nostra vita nella parola di dio e aggiunge infatti l'apostolo infatti l'ira dell'uomo non compie ciò che è giusto davanti a dio perciò liberatevi da ogni impurità guardato quando tolleranza verso la concupiscenza fratelli ai nostri giorni quando tolleranza approvazione diffusione e divulgazione di quello che la corruzione dei sensi per cui non si conosce più che cosa significa amare fare comunione d'amore di vita liberatevi da ogni impurità e da ogni eccesso di malizia accogliete con docilità la parola dice l'apostolo che è stata piantata in voi ma la parola di dio cos'è la presenza di dio e lo spirito di dio è il figlio di dio e la vita di dio perciò accogliete la parola che è stata piantata in voi e può portarvi alla salvezza siate di quelli aggiunge ancora l'apostolo che mettono in pratica la parola e non ascoltatori soltanto illudendo voi stessi perché se uno ascolta la parola e non la mette in pratica costui somiglia a un uomo che guarda il proprio volto allo specchio appena si è guardato se ne va e subito dimentica come era invece la parola di dio fratelli ci mette a confronto con la presenza di dio con l'immagine di dio e quindi ci fa vedere il nostro peccato ma non per accusarci ma per condannare per liberarci per rigenerarci rinnovarci perché la volontà di dio ci porta così ricorda amere mattina san pietro ci porta alla volontà di salvarci la magnanimità di dio consideratela come salvezza allora ecco fissare lo sguardo diceva un giacomo fissarlo sguardo sulla parola perfetta aderire col cuore alla parola perfetta ma la parola ti fa vedere che sei in difetto bene accogli del richiamo che la parola ti fa e lascia di rigenerare rinnovare spirito santo rinnova oggi il cuore della chiesa dell'umanità intera signore gesù tu stai soffrendo nel cuore di tanti cristiani che hanno smarrito il senso della vita il senso dell'amore il senso della santità il senso dell'eternità signore gesù oggi ti preghiamo unita la tua santa madre unita tutta la tua chiesa unita al coro degli angeli di santi ti preghiamo manda il tuo spirito e tutto sarà ricreato e rinnoverai la faccia della terra manda il tuo spirito a rigenerarci a conformarci in tutto al lato al tuo volto santo perché in tutto diventiamo una cosa solo con te figlio di dio fatto uomo per noi sacrificato sulla croce per la nostra redenzione a te sia gloria onore potenza e benedizione per tutti i secoli dei secoli amen vergine santissima in te la grazia di gesù ha brillato in modo perfetto nessuna ombra di peccato offuscata la sua grazia in te e tu oggi regni regina del cielo e della terra e insieme al figlio tuo gesù cristo regni e operi per l'avvento del regno di dio su tutta la terra conduce la chiesa per mano rinnovare nella santità chiama chiama tanti cuori a lasciarsi rigenerare perché l'umanità indire torna al padre a dargli gloria nel nome di gesù suo figlio nostro signore che vive e regna per tutti i secoli dei secoli amen e la grazia di dio fratello oggi invade il vostro cuore la purifichi da ogni debolezza e vi rende come diceva giacomo pronti ad ascoltare il signore che ti parla è il povero che ti avvicina ma lento a parlare è lentissimo ad aderarti ad aderarti vive nella pace e la grazia del signore ti accompagni in questo cammino di salvezza di sapienza di santità amen